Dico subito che all'inizio del video fino alla fine sentirete questo strano suono in sottofondo ed è un errore del microfono perciò cercate di capirlo Ciao a tutti ragazzi qui è Degas Fragers e oggi siamo tornati in questo nuovissimo video, questo è il primo video che faccio con il microfono perciò mi scudo, mi scudo se eventualmente si dovesse sentire male o cose del genere, non ho fatto test di prova anche perché li faccio sempre per una volta, mi sento strano a farli Comunque ora che questo regno si sta fermo, hai finito? Oddio me ne vado, meglio se mi sbrigo, in questo episodio voglio farvi vedere alcune cose che ho fatto Innanzitutto voi sapete che io devo prendere del cibo perché sto morendo di fame E siccome non ho proprio tanto cibo, oddio che sta succedendo Perché stanno morendo tutti insieme, perché quello muore, perché quello è l'armatura, perché l'armatura Così potete vedere le mie capacità Oh, oh, avete visto tutti? Avete visto? Mi ha giocciopato l'elmo Ehi, per l'elmo, forse è meglio se me lo tolgo perché sta per morire e direi di metterlo qui Ok, dopo tutte queste emozioni in un unico momento voglio farvi vedere che io ho costruito il recinto Ok Basta Oh, oh, vuoi fare botte? Eh? Vuoi fare botte? Mi sputa pure Io sono indignato di questa nuova generazione di lama Quello che andremo a fare è qui dentro delle sedi A mettere qui dentro alcuni animali Per poi andare a espandere magari il recinto Prima ci metterò alcuni animali Poi ce ne metterò altri E infine ne metterò altri ancora Ah, ovvero perché ho fatto tutti questi giorni di assenza Manco fosse il mio compagno che tra l'altro saluto Ma io ho fatto così tanta assenza al canale perché Ecco, non sono stato bene anche oggi Potete sentire un po' dalla voce Che è un po' più strana del solito Oltre per il fatto del microfono E quindi non credo si era così facile Ascoltarmi Dopo tanto tempo perché vale le dizioni Non ce la faccio io, guardiamoci voi Ma noi degli altri non me ne faranno niente Quindi vi dovrei servire la mia voce E ho esagerato Quello che vi voglio far vedere Sono le modifiche che ho fatto Qui ho creato una zona per le casse Le mie casse Le mie bellissime casse Poi qui c'è anche un armo stand Dove andrò a mettere armo su di quelle belle E qui infatti ci metterò L'armatura di catene Che non si vede neanche E vi mostro il suo funzionamento Disattivando questa leva L'armo deca da giù E allora riprendendo questa leva Ora vi mostro un'altra cosa A cui ho lavorato Ovvero ha dei campi Prima di canne da zucchero Di canne Di canne da zucchero Zucchero Bellissimo zucchero E poi Ho creato Perché si effettivamente l'ho creato Non l'ho craftato Oltre cose La mia Piantagione Piantine Che andremo a far crescere Le mie piantine Non me le deve toccare nessuno Nemmeno voi dovreste farle Allontanatevi Dalla mia Piantagione Piantine E ho preso questo di grano Domanda cruciale Semplicemente perché devo andare a delle pecore Che saranno il primo animale che metterò nel racino Oh una pecora Ok con quanta velocità Dai Ora torniamo Quella vasta razza di ragni Dovete morire tutti da prima e l'ultimo Finchè non vi ho Finchè non vi avrò uccisi tutti Dovete morire E continuare E continuare Proprio così Morire Da soli Sicilatevi Cos'era questo suono Ah si era il suono Della Monetizzazione Che si dolcemente Se ne andava via dalla porta No 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 Tu torni lì Tu torni lì Tu tornate Venite qui Quelli tu E alla fine Mettiamo Questo Ok E adesso direi di soddisfare I loro bisogni Stavate Cos'era l'unico grano che vi darò Per il resto della vostra vita Che non è neanche vero Perché Quindi dovrò dare tanti E dopo essere morto una volta Posso dire che la missione è completa Abbiamo un recinto Ma in compenso abbiamo perso un'armatura E abbiamo spiegato un sacco di tempo Perciò dovrò passare tutta la mia vita Editare e costruire cose su Minecraft E non potrò mai fare una vita sociale Ma tanto a me non me ne frega niente Non so che problema dovrei avere Ditemelo voi Se è una sindrome o qualcosa del genere Ma a me degli altri non me ne frega proprio niente Per me possono pure morire 5.000 volte Tanto chi se ne frega Basta che posso guardare le cose su Netflix E questa è quella che penso a tutti Non dite la vera Se non dite bugie Non vi credo Tre Torce Perché lì non c'è luce Quindi Vediamo qui dove devono essere le torce Eccidermi Eccoli Certo che E' proprio loggioso Stare qui su Minecraft Non c'è niente da fare Immaginate il passatempo Minecraft Qui Mi spiego meglio Se cosa intendo dire Questo piano E' molto vuoto Io vorrei zubbarlo con qualcosa E guarda In questo caso Prendete gli oggetti E quindi Ho l'intenzione di Adopare Le volte E quindi si Questo è il mio computer Bello quanto la fame in Africa Ma è bello anche quanto La sovraformazione in Cina E' proprio bellissimo E beh E' finto E' solo per estetica Ovviamente Non è che ora funziona Perché mi ha rotto il cuore E' che cosa Che cosa posso dire Non può succedere Non può succedere Non ora Ok Andiamo un po' Ciao Death of Marge 5 Eh E' 6 Eh E' 6 Non è 5 6 Non è più 6 più 1 E cominciamo da capo Ciao Death of Marge 6 Io Sono Eli E sono qui Perché so che tu Sei uno I possessori Del Death Note Che si trova In un giro Per le varie dimensioni E' solo difficile Rappungere la tua Ma Sappiamo entrambi Che tu possiedi Quel diario E io Lo voglio Voglio portartelo Via trappartelo Delle mani Non direi più Morire la gente Per colpa tua E per colpa di Quel diario Girato Sottratto da un pazzo Non Non mi interessa Niente Di quello che direi Di quello che farai Questa E' una dichiarazione Di guerra Sappilo Se più tanto vuoi sfidarmi Sfidami pure Tanto Avrò la vittoria Io Non ti farò più tornare In questo mondo Ti farò uscire fuori A calci Va bene Mi devo aver risolto Questa piccola questione Che non era prevista Solo Mi ritrovo costretto A chiudere l'episodio Prima Per andare Dalla Polizia No Ok E Che è successo Per Che Pagatissimo Per 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 Grazie a tutti.